Allora, salve. Noi alterneremo le nostre voci perché abbiamo fatto insieme questa ricerca e perché siamo insieme, non avendo bisogno di alcun distanziamento tra noi. Non parleremo degli aiuti che pure ci sono stati, diciamo, nel territorio ruminese, nell'ambito del razzismo, della persecuzione anti-ebraica, ma non lo facciamo perché ce ne saranno altre persone che si occuperanno del tema e affronteremo alcune tematiche, alcuni casi, diciamo, sui quali ci siamo soffermati in particolare, tralasciandone tanti altri che pure abbiamo trovato e che sarebbero ugualmente interessanti. Comunque, partiamo dal territorio, dal nostro territorio. Condividiamo lo schermo e vediamo di partire, ecco, di definire il nostro territorio. Alcune notazioni geografiche, prima di passare direttamente alla storia, perché quel territorio che vedete, con la fascia costiera e la fascia interna lungo l'asse della Val Marecchia, oggi si chiama provincia di Rimini, ma negli anni di cui trattiamo la provincia di Rimini non esisteva e la fascia costiera, fino a Sant'Arcangelo, fino a Toriana, era di pertinenza della provincia di Forlì. La fascia interna, diciamo quella collinare piedemontana o montana, era di pertinenza della provincia di Pesaro. Oggi le due parti si sono unificate con il nome di provincia di Rimini. E questo è il nostro territorio. Ecco, qualche riferimento storico. Un riferimento storico proprio, brevissimo per cenni, perché non è compito nostro parlare del mondo intero, ma sono necessari questi riferimenti per capire qual è l'ambito in cui si svolge la politica razziale nel riminese. Su in alto vedete la sommità della piramide e leggi di Lorimberga, e qui nel 1935 iniziò la politica razziale del nazismo, la follia rassista, con tutta una serie di provvedimenti che tendevano a escludere gli ebrei dalla vita sociale, dalla vita politica, e purtroppo questo percorso terminerà nelle camere gas, e ancora purtroppo a Hitler e alla sua follia razzista si allineerà Mussolini, che era il capo del governo italiano negli anni 20-30, ci sarà un patto, l'asse Roma-Berlino, che poi diventerà un patto di acciaio più avanti, che prelude alla seconda guerra mondiale. Il primo settembre 1939 si fa per la guerra mondiale, e abbiamo messo una data di riferimento intermedia, che dice giugno 1940, quando il nostro paese purtroppo entrerà nella seconda guerra mondiale a fianco di Hitler. L'Italia quindi si allinea al nazismo e alla sua prassi razzista. Qual è il problema in questi anni nell'Europa centrale e in particolare nella Germania? Il problema è quello di escludere, come si è visto a Nolimberga, gli ebrei dalla vita sociale e dalla vita politica. Probabilmente Hitler aveva già in mente la soluzione finale, in Italia questo non possiamo assolutamente fermarlo, anche se nei fatti poi ci sarà una coincidenza delle due politiche. In Italia per il momento c'è una politica di discriminazione, chiamiamola in questo modo, di isolamento degli ebrei, e per fare questo però occorrono alcuni passi, dato che il nostro non era un paese con una storia di razzismo accentuata, evidente. E quindi il primo passo era di dare una legittimità scientifica alla politica razziale. E su ispirazione di Mussolini una serie di scienziati italiani, dieci scienziati italiani, stendono un manifesto che verrà pubblicato nel 14 luglio del 1938, il 1938 è un anno cruciale, col titolo Il fascismo e i problemi della rassa. Qui abbiamo indicato solo tre principi particolarmente evidenti. Il primo è che esiste una pura rassa italiana che fa parte della rassa ariana, e quindi ci allineiamo ai tedeschi. Il secondo è che non si deve provare vergogna a essere razzisti, anzi è tempo, dicono gli scienziati, che gli italiani si proclamino francamente razzisti. E poi il terzo, quello più categorico, definitivo e negativo, gli ebrei per loro, gli ebrei non appartengono alla rassa italiana. Quello che ancora non è chiarissimo è come si fa a identificare l'ebreo. Mentre per popolazioni africane la percezione visiva è immediata, per l'ebreo non è così, nel senso che l'ebreo è in tutto e per tutto simile al non ebreo italiano, ariano o al non ebreo tedesco, ungherese o polacco. E allora si passa per un altro percorso, che è quello di identificare, diciamo così, il suo ramo familiare in senso biologico. I nonni, i genitori erano ebrei, fino a che punto, eccetera, eccetera. E qui va avanti una politica razziale che a volte è grottesca e assurda, che però porterà a un primo censimento della popolazione italiana e di conseguenza della popolazione riminese per verificare e segnalare tutti i casi di ebrei presenti nel territorio. Il risultato è evidente sotto i vostri occhi. Le famiglie di ebrei residenti... Ecco, la prima cosa da sottolineare è questa. Vedete due tipologie di ebrei. Gli ebrei residenti da una parte e gli ebrei temporaneamente presenti dall'altra. Cosa significa? Significa che la vocazione turistica del nostro territorio era evidente già in questa prima parte del Novecento. Un territorio a vocazione turistica come questo aveva durante l'anno, soprattutto nella stagione estiva, delle presenze consistenti di famiglie di religione ebraica, sia perché possedevano villini al mare, secondo alcune, non tutte, e sia perché frequentavano i nostri litorali per ragioni di salute o per ragioni di svego. E quindi loro sono i temporaneamente presenti e come vedete dai numeri, sono sicuramente più i temporaneamente presenti dei residenti. Certo. Poi c'è anche l'altro elemento, quello del misto, proprio perché si diceva, non è tanto una definizione di religione quanto una definizione di razza. Rassa, cioè di nonni, di familiari, di padre e madre. Quindi i quarti di ebraismo che ci sono nel sangue. Era questa l'aberrante visione, no? Per definire l'ebreo. Indipendentemente dal fatto che uno frequentasse o meno la sinagoga, pregasse o meno in un modo o in un altro. Ecco perché appunto sono definite miste alcune famiglie. E sono quelle dove, per esempio, il padre ebreo e la madre no, o viceversa, uno cattolico e l'altro ebreo. E in ogni caso, ciò non ha impedito alla famiglia di nascere, a queste persone di sposarsi e di mettere al mondo dei figli. Rimini aveva molte di queste situazioni, diciamo, di famiglia mista. E non solo Rimini, probabilmente. Il popolo di Romagna. Il popolo di Romagna, qui abbiamo voluto mostrare anche questa pagina, proprio di Romagna di Forlì, perché Rimini faceva parte, come si diceva prima, della provincia di Forlì. E a livello provinciale, nell'insieme, era circa un centinaio, il 98 abbiamo visto, vediamo scritto qui, in realtà poi erano stati contati 102 ebrei nell'intera provincia di Forlì. E 98 inizialmente sono gli ebrei nella provincia di Forlì. Non molti, scrive questo giornale, ma il numero ha non poco meravigliato chi riteneva la nostra provincia non intaccata dalla lebra ebraica. Ritorniamo un attimo su quanto dicevo prima io, sul razzismo di matrice germanica e poi di derivazione anche in Italia. Vale a dire, l'appartenenza ebraica, che fosse culturale, religiosa o di altro tipo, veniva comunque identificata con una malattia infettiva, contagiosissima, come era la lebra. Adesso fortunatamente sono poche le zone del mondo dove la lebra è ancora in pera, ma c'è stato un periodo in cui era diffusa anche in Europa, nei nostri territori. E però, pensate un attimo a quello che significa oggi il Covid, quando uno è affetto da malattie infettive, assolutamente deve essere isolato, e quindi separato. E quindi gli ebrei in quel momento vengono prima censiti e poi vedremo progressivamente separati dal resto e dalla popolazione in quanto erano pericolosissimi. A tutti i livelli, a tutti i livelli. Ecco le leggi. Nello stesso anno, 38, abbiamo appunto, dopo il manifesto e dopo il sensimento, le prime leggi che vengono pubblicate, diciamo, nei primi giorni di settembre del 38, poi la prima sarà quella provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, la seconda provvedimenti nei confronti degli liberi stranieri e poi il regio decreto del novembre che riunifica, riprende alcune di queste tematiche ed estende ancora di più, diciamo, l'ambito del razzismo nei confronti degli ebrei. E per quanto riguarda la scuola, forse il provvedimento più noto, ma chiaramente diciamo che anche nel territorio di Rimini ci sono delle ripercussioni, nel senso che questo valeva per tutta la penisola, insomma, quindi sia bambini, ragazzi, che insegnanti o che personale, che in qualche modo anche non docente, che si trovava a lavorare dentro la scuola, doveva essere cacciato. E il secondo, provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri, pure forse abbastanza noto, in ogni caso, stabiliva che entro sei mesi tutti gli ebrei stranieri dovessero andarsene. Poi Antonio spiegherà che non sarà così semplice mandare via tutti gli ebrei stranieri, anche perché spesso nessuno li voleva. Indietro non potevano andare, altri paesi stranieri non volevano accettarli, quindi di proroga in proroga rimandavano la partenza e a volte dopo finivano con l'essere arrestati o internati. Ma volevo anche, scusa Antonio, dire che queste sono le leggi forse più note, ma non si ferma qui la legislazione contro gli ebrei, andrà sempre avanti, anno dopo anno, anno dopo anno, anche con circolari minuziose che vanno a regolamentare tutti gli aspetti della vita, tutti gli aspetti della vita privata, entrando anche nel tempo libro, poi lo vedremo anche dopo, e per i ragazzi che probabilmente ascoltano per esempio l'esclusione dalle società sportive per un ragazzo credo sia una cosa molto dolorosa e pesante, ricordo Bassani che era stato cacciato a Ferrara dal circolo Marfisa, ad este, circolo di tennis, dove passava tantissimo del suo tempo e un bel giorno non può più partecipare alla vita del club, ecco questo per far capire insomma l'arbitrio anche e l'assurdità di queste misure. Ecco, la stampa naturalmente pubblica la notizia. Il Corriere della Sera, sì, è uno dei giornali più illustri d'Italia e pubblica l'articolo diciamo senza commenti negativi, nel senso che in quel momento non si vede l'ora che gli ebrei vengono allontanati da tutti i posti dove sono visibili per non contaminare gli altri. Ma a livello locale vorrei leggere due righe perché la notizia della cacciata dall'insegnamento dalle scuole arriva forse prima a Viserba che sui giornali. Leggiamone un diario 2 settembre Leo telefona da Viserba ore 14 sospeso dall'insegnamento il razzismo sulle orme del nazismo le leggi razziali i bambini esclusi dalle scuole ariane a scrivere è il padre di questo giovane in un'immagine assieme alla moglie che si trovava a Viserba perché aveva sposato la cugina lui è Leo Pinkerle lei Nora Cameo erano cugini le famiglie erano già imparentate e questa casa Villa Cameo che esiste ancora era il punto di ritrovo appunto di queste due famiglie Leo a soli 21 anni era già docente di fisica teorica all'università di Padova il padre questo medico qui in camice assieme ad altri medici di Bologna pediatra docente di pediatria insegnava all'università a Bologna entrambi perdono il lavoro entrambi cacciati dall'insegnamento ma ci saranno anche dei bambini a Rimini come Lope Spegna la cui madre dovrà fare le acrobazie per fargli fare la prima elementare perché entrava quell'anno in prima e quindi dovrà farlo considerare figlio del primo marito che non era ebreo cambiandogli il nome Leo Pinkerle riparerà in Inghilterra dove farà igreggiamente il suo mestiere era un allievo di Enrico Fermi e non tornerà mai più in Italia neanche dopo la fine del fascismo e qui vediamo le due famiglie riunite e diciamo che anche qui perché poi vedremo che la situazione nel giro di qualche anno diventerà drammatica quando ci sarà proprio la caccia all'ebreo i Pinkerle dovranno nascondersi fuggire con altri parenti e passare per contadini cioè con carte di identità false e vivere in mezzo ai contadini per cercare di sopravvivere un figlio di Pinkerle si unirà ai partigiani invece per una lotta partigiani ecco altre due realtà due casi di cui parlerà anche Francesca senz'altro due medici quindi abbiamo Mario Castelvolognesi oculista con la moglie e Giorgio Matrai con la moglie questo era un ungherese che aveva sposato una ragazza del posto la figlia del fornaio lavorava presso la casa di cura Villa Salus naturalmente ne verrà cacciato e anche Mario Castelvolognesi sarà o espulso più avanti nel 39 dall'ordine ecco questa è un po' la situazione anche a Rimini per quanto riguarda gli stranieri due casi due casi dei tanti che si verificano perché questi sono i nomi degli stranieri che lavoravano in territorio riminese negli alberghi segretari o in qualche caso anche con proprietari abbiamo per esempio Carlo Wigder che ormai si trovava in Italia si trovava nella cattolica da diversi anni tanto che aveva sposato una donna italiana del posto ed era socio di un diciamo di un ariano possiamo dire tra virgolette e quando arriva la norma razziale che prevedeva l'espulsione naturalmente il socio non lo aiuta per niente anzi scrive al prefetto che questa alleanza diciamo questa società lo danneggia e dice appena il cliente scopre di essere in casa di un ebreo lascia l'albergo quindi prima lo mandate via e meglio è e così sarà quindi di Carlo Wigder poi non sappiamo che ne è stato perché viene portato al confine e mandato via al confine del nord Italia un altro caso importante drammatico è quello di Nissim Matatia che proveniva da Corfu quindi con altri due fratelli erano greci erano immigrati in Italia negli anni 20 addirittura poi avevano iniziato a lavorare nel settore della pellicceria e Nissim aveva aperto un negozio anche a Riccione dove aveva comperato anche una casetta per la famiglia questa casa qui la vediamo ora soffocata dai condomini ma all'epoca questa casa rossa aveva un grande spazio libero aperto attorno e tanto libero che confinava con un altro spazio libero di una villa Villa Margherita questa villa Margherita sarà acquistata dalla moglie di Mussolini quindi diventerà la dimora estiva del duce a quel punto la vicinanza di un ebreo non è più tollerabile e quindi faranno di tutto per farlo vendere per far per convincere costringere anzi questa persona a vendere cosa che Nissim ma tatia qui lo vediamo con i tre figli farà e farà quando ormai è già stato espulso e separato dai suoi dai suoi e la dovrà vendere questa casa a un prezzo irrisorio praticamente costretto dalla polizia segreta fascista a vendere la sua fine sarà tragica perché non sopportando la lontananza dalla famiglia rientra rientra in Italia clandestinamente vive di nascosto a Bologna ma verrà scoperto e arrestato con uno dei figli dopodiché anche la moglie e gli altri due figli vengono catturati e moriranno tutti un figlio tornerà da Auschwitz per morire poco dopo questa è la tragica fine dei matatia ma c'è un altro aspetto della persecuzione ci riguarda direttamente qui torniamo alla prima immagine che vi ho fatto vedere quella delle due parti della provincia questa riguarda la parte balneare la parte del litorale fra i tanti provvedimenti di esclusione degli ebrei dalla vita sociale dalla vita pubblica c'è questo che non è fra i più devastanti o almeno non è ritenuto tale credo dalla maggioranza degli ebrei però è significativa perché perché a Rimini venivano tante famiglie come abbiamo detto all'inizio di ebrei con bambini e quindi a loro il mare non era soltanto un'occasione di svago ma anche veramente di salute di salubrità e di cura e il fascismo decide per le tante misure persecutorie di escludere gli ebrei dal godimento di riposo e svago la misura è riferita alle località di villeggiatura in senso largo nel senso che prevede sia quelle montane sia quelle marine o sia quelle di lago oppure la frequentazione delle località termali delle stazioni termali per cura e si dispone a partire dal 1939 che questo non è tollerabile appunto per la ragione che già abbiamo detto vanno esclusi insomma la lebra non deve diffondersi gli ebrei verranno accacciati dalle spiagge questo abbiamo detto e qui troviamo una specificazione spiagge di lusso perché perché l'accanimento del diciamo così degli amministratori ecco di quelli che gestivano le varie provvedimenti disciplinari legislativi è tale per cui si pensa che le spiagge comunque vadano classificate ci sono spiagge di eccellenza come ce ne sono oggi ben attrezzate ben servite ci sono anche spiagge invece di secondo ordine cioè spiagge dove l'attrezzatura è minima chiamiamole di serie B sì Rimini rientrava tra le spiagge di lusso e con Rimini riccione fino dal dal primo momento altre spiagge no cattolica di serba misano inizialmente no inizialmente non sono di lusso ma poi vengono vengono classificate come tali che cosa comportava questa distinzione qui vedete un elenco delle spiagge di lusso secondo i mari la distinzione comportava che nelle spiagge di lusso era vietato assolutamente agli ebrei a tutti gli ebrei d'Italia ancora peggio agli ebrei stranieri di accedere al litorale in nessun caso si poteva accedere invece le spiagge diciamo così ordinarie di seconda categoria di serie B come le ha definite Lidia quelle potevano essere frequentate ma sotto condizione nel senso che bisognava avere un permesso sanitario particolare non bastava il medico di famiglia ma bisognava ricorrere al medico provinciale sia l'ufficiale sanitario provinciale quindi bisognava andare fuori per avere un certificato di malattia e il permesso e poi si poteva risiedere ecco si poteva risiedere nella stazione balneare solo per un tempo limitato 15 giorni solitamente anche se ne avevi bisogno un bisogno comprovato dal certificato medico e questo significò per tantissimi che presentavano le nostre spiagge non solo non solo doversene andare ma anche un'umiliazione che pativano soprattutto i bambini i piccoli nel vedersi cacciati da una meta che era stata ambita per tutto l'inverno questa è un'altra delle cattiverie usate nei confronti degli ebrei c'era qualcuno però che non non voleva lasciarsi coinvolgere da questo odio antisemita il poeta Elio Pagliarani ricorda di Viserva ricorda dei vicini di casa la famiglia Bemporad di Ferrara ebrei e così ne parla l'estate del 40 conobbi Giovanna Bemporad qui la vediamo nell'immagine poetessa grande lettrice grande traduttrice dal greco e dal latino vero ecco conobbi Giovanna Bemporad anzi ci fece amicizia perché probabilmente ci conoscevamo già da qualche estate i Bemporad da Ferrara venivano a passare le vacanze a Viserba l'avvocato era gentile con tutti e granchi a Chierone sua moglie aveva sempre l'aria seria tra la malata e la preoccupata e certo quelli erano anni particolarmente duri per loro avevano cinque figli due maschi e tre femmine mi apparvero subito favolosi per diversi motivi Mario il filosofo magro lunghissimo allora sui diciotto scusate allora sui diciotto vent'anni le notte si aggirava nei giardini dei vicini a chiudere i rubinetti di tutti i pozzi perché il rumore dell'acqua non lo faceva dormire poi nel 44 per salvare lui ebreo dalla deportazione in Germania lo rinchiusero in una casa di cura per malattie nervose e soffrì indicibilmente una sorella rapitrice ma la grande amicizia io lebbi con Giovanna sapeva almeno sette lingue quanto meno secondo la mia esagerazione e io il greco non lo so nemmeno adesso traduceva già l'Udissea in verso quando scrive queste cose erano ragazzini di 13 14 anni Giovanna era un autodidatta aveva studiato da sola e già traduceva l'Iliad dell'Udissea a quell'età veniva proprio da un altro mondo e facemmo grande amicizia molte sere e note noti d'estate del 40 del 41 del 42 forse anche del 39 e passavamo passeggiando nei campi lungo e oltre la ferrovia fino all'aperta campagna si parlava si discuteva ma più spesso lei declamava versi Leopardi Saffo e i poeti contemporanei Cardarelli Montano Ungaretti ecco questo per dire come per il poeta Paglierani presentare gli ebrei nella maniera in cui venivano descritti per esempio nel libro del fascista che troviamo anche qui conservato nella biblioteca Gambalunga di Rimini il secondo libro del fascista destinato agli alunni delle scuole e per il poeta non aveva senso descrivele così la vasta e subdola opera di corruzione svolta tenacemente dagli ebrei con tutti i mezzi nella vita politica sociale economica nei campi dell'arte della letteratura della scienza rappresentano un pericolo per il domani dell'Italia le leggi fasciste riguardanti tutti gli ebrei sono state emanate per eliminare questo pericolo e per ricondurre il popolo italiano alla sua completa purezza fisiologica e spirituale queste erano le parole scritte nel libro del fascista che andavano in tutte le scuole e quindi gli studenti si formavano così ma Elio Pagliarani non aveva questa visione anzi apprezzava e stimava moltissimo la famiglia Bemporad che si salverà ma tre fratelli del padre del padre di Giovanna quindi tre zii due zii e uno zii saranno deportati e uccisi ecco ora due casi volevamo accennare a due casi di bambini che nascono a Rimini nel 1941 uno è questo bambino che vediamo qui in una foto risalente dopo la guerra con i genitori e il fratellino che nasce in un secondo momento Edoardo Milano nasce a Rimini nel 1941 immediatamente poiché è figlio di padre ebreo e madre ebrea viene denunciato dalla podestà di Rimini la sua nascita viene denunciata dal podestà al prefetto di Forlì al questore di Forlì e al vice questore di Rimini quindi pensate soltanto per dire è nato un ebreo tre autorità devono essere informate conosciamo queste cose dal diario del padre che sarà pubblicato in Brasile perché molti Milano e molti forti molti componenti di queste due famiglie emigreranno in Brasile sappiamo che per poter sfuggire alla cattura loro due diciamo i due genitori e il figlio l'altro non era ancora nato e una giovane cognata fuggiranno lasceranno Rimini in fretta e furia dopo l'8 settembre dopo l'armistizio si rifuggeranno nelle marche vivendo praticamente nella miseria più totale perché erano clandestini in quel momento chi non aveva le tessere nonarie per comprare il cibo non poteva mangiare o meglio poteva comprare solo il cibo a mercato nero e quindi era tutto carissimo vivono in una stalla fanno praticamente la fame questo lo sappiamo appunto dal diario di Aldo Milano un altro caso scusate qui ho sbagliato ecco andiamo avanti un altro caso il caso di una bambina che si chiama Marina Vettore che nasce nello stesso anno qualche mese dopo da una famiglia in questo caso mista perché il padre lo vediamo qui era il direttore ingegnere Vettore e direttore dell'inificio di Viserba qui lo vediamo con le operaie che lavoravano nella corderia che esiste ancora nel settore del lino lui era il direttore e non era di famiglia ebraica mentre la moglie sì quindi era una famiglia mista decidono di battezzare immediatamente la loro bambina il giorno dopo e inviano questo certificato di battesimo immediatamente alle autorità in modo da dire insomma non è ebrea l'abbiamo battezzata cinque mesi dopo la situazione non è ancora chiara da Roma la direzione generale della rassa scrive che non basta il certificato di battesimo questo deve essere vidimato cioè firmato anche dal vescovo di Rimini per di più ci vuole vogliono vedere il certificato di matrimonio dei genitori per verificare se davvero si sono sposati in chiesa e vogliono avere anche il certificato di battesimo dei nonni paterni della bambina questo per poter fare tutti i loro calcoli e dire bene questa bambina allora non è ebrea non ha prevalenza di sangue ebrea nonostante tutto tutto questo anche se viene dichiarata cattolica e non ebrea quindi ariana quando sempre lo vedremo poi dopo l'otto settembre dopo l'otto settembre inizierà la situazione politica cambierà radicalmente anche per queste famiglie la madre non aspetterà un giorno di più prenderà le sue bambine e se ne andrà e se ne andrà via rimane il padre rimane a Rimini ma lui viene arrestato viene arrestato e incarcerato si troverà appunto con altri ebrei arrestati perché aveva cercato di aiutare il suocero e infatti si troverà in carcere con il suocero e poi vedremo dopo come riusciranno a venirne fuori ecco ecco questa è un'altra parte della vicenda degli ebrei nel territorio riminese dico nel territorio nel senso che ho illustrato nella prima diapositiva questa è la parte che allora era di pertinenza dell'amministrazione provinciale di Pesaro oggi Sant'Agata Feltri Penabili e San Leo appartengono al territorio riminese anche dal punto di vista amministrativo e non solo geografico e questi paesi sono significativi per la storia degli ebrei perché qui vengono internati e vi dirò brevemente cosa significa tutta una serie di ebrei prevalentemente stranieri ma non solo anche italiani a partire dal giugno 1940 quando l'Italia come abbiamo già detto dalla parte iniziale entra in guerra a fianco della Germania di Hitler e qui sono abbiamo trovato negli archivi comunali locali e anche a Pesaro abbiamo trovato i nominativi di tutti coloro che furono internati l'internamento è una sorta di domicilio coatto diremmo noi oggi di confino di polizia a cui queste persone erano costrette per via della loro razza o della loro pericolosità presunta in periodo di guerra erano stranieri e gli altri italiani non erano fascisti erano antifascisti e quindi lì vengono relegati in paesi che tipo di paesi erano questi 400 comuni che vedete dalla parte alta della slide erano paesi di solito colinari o montani delle regioni centro-meridionali della penisola italiana isolati dal resto del mondo non passavano non erano vicini a grandi strade di comunicazione l'importante era che ci fosse un presidio dei carabinieri il podestà ovviamente perché ogni giorno almeno una volta al giorno se non tre in alcuni casi dovevano andare a firmare a testare la loro presenza in comune non potevano allontanarsi per più di 500 metri dal centro del paese del capoluogo comunale e non potevano intrattenere rapporti di amicizia con la popolazione del luogo e non potevano avere radio non potevano leggere giornali insomma tutti i divieti che riguardavano in generale gli ebrei alcuni di questi dovranno restare in questi comuni per tre o quattro anni abbiamo abbiamo indicato i luoghi di provenienza come vedete erano in gran parte i paesi assoggettati a Hitler nel centro Europa più alcune zone della Jugoslavia e tutti questi resteranno qui con difficoltà di lingua con difficoltà di ambientamento climatiche di ogni tipo per quattro tre o quattro anni e purtroppo alcuni di costore vedremo successivamente verranno arrestati incarcerati nessuno di loro verrà deportato almeno a nostra conoscenza una slide velocissima come quella che vi ho fatto vedere all'inizio per inquadrare storicamente quello che succede in Italia perché dopo il mio 940 il 41 e il 42 che per gli ebrei italiani sono comunque anni pesanti di esclusione e ora subentra qualcosa di ancora peggiorativo se era possibile immaginarlo in seguito allo sbarco degli angloamericani in Sicilia cade Mussolini i tedeschi intervengono prontamente per sostenere il dettatore caduto parte d'Italia con il re il maresciallo Badoglio invece fa l'armistizio con gli angloamericani e dopo pochi giorni entriamo in guerra contro il nostro primo alleato contro i tedeschi i tedeschi sono entrati in Italia armati armatissimi con diverse decine di migliaia di soldati occupano il territorio almeno fino sotto Roma fino a Napoli e l'arrivo dei tedeschi in Italia significherà per gli ebrei ovviamente un peggioramento radicale della loro condizione nel senso che da da quel momento in avanti qualche mese dopo già nel novembre del 1943 la Repubblica di Salò che Mussolini ha ricostituito con i principi fascisti emanerà un ordine di polizia in base al quale gli ebrei dovranno essere ecco questo è l'ordine di polizia di Bifarini Guidi del 30 novembre 1943 tutti gli ebrei presenti nel territorio sia quelli stranieri sia quelli nazionali italiani devono essere catturati incarcerati e vedremo poco alla volta deportati quindi comincerà forse la fase più critica più dolorosa per tutti gli ebrei presenti nel territorio volevo dire una cosa riguardo a quello che dicevamo prima dopo l'8 settembre questa data è molto importante anche per il territorio riminese costiero perché molti ebrei che si trovavano internati in varie parti d'Italia fuggiranno lasceranno la sede proprio nel momento dello sbandamento di quei giorni lasceranno le loro sedi di internamento obbligate e molti si dirigeranno verso il sud e alcuni di questi proprio arriveranno proderanno a Rimini e ci sono storie veramente interessanti di questi di questi arrivi su queste fughe insomma e comportano anche poi vari avvenimenti legami particolari col territorio ma non è il momento di parlarne in questo caso a ridosso della linea gotica molti di loro non potendo varcarla proseguire all'area al sud vengono catturati e imprigionati e rischiamano la deportazione certamente quindi tutta una pagina di storia che sarebbe tutta ad approfondire questo è l'ordine di polizia e qui abbiamo anche gli arresti degli internati quindi di cui parlavo prima ecco questo è un documento che abbiamo trovato a Nova Feltria presso il giudice di pace oggi dove è stato sistemato l'ex archivio di apertura di quella località e qui si vede che questo caso Svarza e la moglie vengono incarcerati il 13 e con quale reato guardate qua è molto chiaro il titolo del reato sono ebrei fortunatamente scamperanno dalla deportazione però in quel momento hanno corso sicuramente il pericolo estremo della loro vita certo per quanto riguarda Rimini abbiamo il censimento che è l'ultimo di fatto del 16 dicembre 43 l'elenco di tutti gli ebrei che vengono segnalati nel territorio riminese nel circondario e fra l'altro questi dati analitici una schedatura direi di tutte le situazioni le parentele dove avevano la casa dove erano residenti i figli il coniuge eccetera tutti questi dati vengono passati al comando tedesco e qui abbiamo queste persone che sono o da inviare in campo di concentramento o da sottoporre a rintraccio e vigilanza c'è da dire che la gente come dicevamo prima a proposito di Marina Vettore molti si erano già dati alla fuga anche se erano di famiglia mista ma otto persone però vengono subito trovate e arrestate a Rimini abbiamo appunto detto prima Vettore Vittorino e il suocero Vitali Alto a Cattolica due famiglie in particolare la famiglia Coen originaria di Bologna e la famiglia di Bruna Sevini con praticamente questa giovane ventenne Bruna Sevini con la madre e la nonna i nomi sono i nomi stranieri o non molto noti erano assolutamente storpiati qui scrivono iconi invece era Leoni in ogni caso loro sei vengono arrestati insieme e portati nel carcere di Rimini che è la rocca malatestiana altri due vengono arrestati a Misano Misano Mare allora si chiamava e solo Roberto e Pines Israele Isidoro che erano tra loro colleghi di lavoro e poi diventeranno cognati hanno sposato due sorelle e quindi e poi anche una slava di cui conosciamo poco ma che comunque finisce nel carcere di Rimini ecco una volta incarcerati sappiamo che riusciranno a fuggire perché riusciranno a fuggire perché le bombe e un bombardamento terribile scardina il portone della rocca malatestiana Bruna Sevini che abbiamo conosciuto personalmente ci ha fatto proprio il racconto dettagliato di quel momento di quei giorni dico soltanto forse c'è tempo lei a vent'anni doveva già occuparsi di un fratello di tredici anni di una madre che era sorda e di una nonna cieca quindi lei riesce nel momento in cui il portone viene scardinato a portarli via e si rifugia presso un ordine di suore di Miramare di Rimini che le accoglieranno e le interranno fino alla liberazione questo è Pines Isidoro e abbiamo raccolto la testimonianza di sua nipote lui era lo zio nipote nel senso di zio diciamo che riesce a fuggire e che raggiunge Roma dove si trovavano i suoi genitori e questo se vogliamo l'ingegnere Vettore Vittorino che riuscirà a scappare si ridirigerà nel Veneto dove sapeva essere andata la moglie con le figlie ma viene riconosciuto essendo un ingegnere viene assoldato diciamo arruolato più che assoldato arruolato dai soldati tedeschi per ricostruire un ponte ferroviario assieme a soldati italiani a malincuore si mette a lavorare poi si rende conto che in realtà il lavoro era tutto controllato dai partigiani i quali appena il lavoro stava per finire avvertivano gli aerei alleati che bombardavano il ponte e tutto quindi ricominciava quindi in realtà sabotavano il lavoro dei tedeschi ecco ma non non tutte le storie finiscono così abbiamo per esempio Lucia Levi di Riccione che verrà di Riccione di Firenze diciamo meglio ma che aveva lunga frequentazione e casa anche a Riccione che verrà deportata e uccisa ad Auschwitz abbiamo il marito no no il marito Guido Coyne no il marito di Lucia ah sì sì il marito di Lucia aveva tanta frequentazione con Riccione che dopo morto sarà sepolto proprio nella cittadina a Riccione ecco l'altro appunto invece è Guido Coyne un altro che subisce un altro cittadino di Rimi che subisce la deportazione ma riuscirà a fuggire avventurosamente e riuscirà a tornare ma dopo molti mesi era stato arrestato dai tedeschi e poi abbiamo rintracciato molte vittime di persone che avevano la casa Riccione per esempio la prima coppia Cantone Margherita Orvieto Leone ecco avranno la casa requisita quando ormai sono già stati catturati e deportati e altre persone che erano state a Rimini o a Riccione come presenza temporanea o come sfollati in particolare dopo l'8 settembre o sfollati di guerra però era una presenza temporanea ma periodica nel senso che tutti gli anni tornavano qua o per la villa o per e per concludere questo è l'ultimo capitolo meno tragico di quello precedente ma altrettanto significativo dell'accanimento fascista nei loro confronti perché dopo averli ridotti a essere non più cittadini dopo averli incarcerati dopo averli deportati o contemporaneamente li si priva dei beni tutti i loro beni vengono requisiti mobili e immobili e qui abbiamo trovato diverse abitazioni come vedete a Rimini a Riccione addirittura i depositi bancari e le polizze assicurative la spogliazione per concludere è legale è legale cioè lo Stato può requisire i beni ebraci legalmente con leggi con leggi proprio scritte ecco questa è una breve storia della pesante persecuzione che hanno subito gli ebrei anche nel nostro territorio grazie finito grazie 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 grazie